Nel grande fratello, un piccolo incidente familiare ha spaventato gli inquilini. Ieri pomeriggio il coperchio della pentola ha preso fuoco. L'evoluzione della situazione non è ancora chiara. Rosie e Federico stavano cucinando ai fornelli quando all'improvviso dal fornello si è propagato un piccolo fuoco. Il coperchio era in fiamme. Per fortuna Rosie e Federico sono riusciti a spegnere in tempo l'incendio, ma la paura era ancora lì. E sembra che persista anche l'odore di bruciato causato dal manico del coperchio in plastica bruciata. Insomma, tutto va bene e finisce bene. Il grande fratello, noto per i suoi momenti di tensione e sorprese inattese, ha visto emergere un'altra situazione drammatica nella casa. L'incidente in cucina ha portato gli inquilini sull'orlo del panico, con il timore per la sicurezza di Rosie e Federico. Quando il fuoco ha iniziato a divampare sul fornello, l'atmosfera nella casa è diventata tesa. Rosie e Federico, che si trovavano vicino ai fornelli, sono stati rapidi nel reagire. Con calma e determinazione, hanno affrontato la situazione, prendendo le misure necessarie per evitare che l'incendio si propagasse ulteriormente. Fortunatamente, la loro prontezza d'animo ha impedito che l'incidente assumesse proporzioni più gravi. Dopo aver spento le fiamme e assicurato che tutti fossero al sicuro, il gruppo ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, l'episodio ha lasciato un'impronta tangibile nella casa, con l'odore persistente di bruciato che aleggia nell'aria. Nonostante l'incidente sia stato gestito con successo, il ricordo di quanto accaduto continuerà a influenzare l'umore degli abitanti della casa nei prossimi giorni. La comunità del Grande Fratello, già provata dalle tensioni quotidiane e dalle dinamiche interpersonali, dovrà ora affrontare questa nuova sfida insieme. E mentre la paura svanisce lentamente, l'episodio serve da promemoria della fragilità della vita nella casa del Grande Fratello e dell'importanza di rimanere uniti nelle avversità. Così, nonostante l'agitazione dell'incidente, la famiglia del Grande Fratello può continuare la propria esperienza col rinnovato spirito di solidarietà e resilienza.